Immaginate di essere al volante della vostra auto. Siete da soli, state percorrendo l'autostrada e c'è poco traffico. A un certo punto però succede qualcosa di strano. Senza che voi tocchiate nessun comando, l'aria condizionata si attiva e dalle bocchette inizia a uscire aria gelida. Dopo qualche secondo la radio si accende da sola e spara una canzone a tutto volume. Poi tocca i tergicristalli, che iniziano a uscillare avanti e indietro. Mentre ovviamente vi fate prendere dal panico, sullo schermo del cruscotto compare la foto di due hacker che vi salutano. La macchina inizia ad accelerare senza controllo e a quel punto vi rendete conto che anche il pedale del freno non funziona più. Ecco questa scena da incubo. Voi l'avete solo immaginata, ma a qualcuno è successo davvero. Il protagonista di questa storia si chiama Andy Greenberg ed è un giornalista della rivista americana di tecnologia Wired. Nel 2015 Greenberg si siede al volante di una Jeep Cherokee e si presta come cavia per un esperimento condotto da Charlie Miller e Chris Valasek. Miller e Valasek sono ricercatori. Il loro lavoro consiste nell'individuare delle falle nei sistemi elettronici, compresi quelli montati sulle nostre auto. Il giorno dell'esperimento con il giornalista i due ricercatori si improvvisano hacker e riescono a prendere il pieno controllo dell'auto e a far passare un brutto quarto d'ora a Greenberg. L'esperimento è un successo. Nel reportage per Wired c'è anche un video che mostra l'auto che si ferma su una corsia dell'autostrada mentre il giornalista prega ai ricercatori di smettere ma lo deve fare urlando perché la musica dello stereo è altissima e lui proprio non può abbassarla. Dopo questo esperimento così ben pubblicizzato la FCA che produce le Jeep Cherokee ha dovuto ritirare un milione e mezzo di auto dal mercato. Poi ha pagato delle multe negli Stati Uniti per circa 100 milioni di dollari e a quel punto ha ovviamente licenziato i responsabili della cyber security dell'azienda. La falla di sicurezza è stata corretta poi nei modelli successivi però la figuraccia ovviamente è rimasta e soprattutto grazie a Miller, Valasek e Greenberg tutto il mondo si è immediatamente reso conto di quanto la sicurezza informatica sia diventata fondamentale anche là dove un computer non c'è o sembra non esserci. Bit by Bit, un podcast prodotto dall'Istituto di Informatica e Telematica del CNR. La ricerca informatica raccontata attraverso i progetti e gli studi che si svolgono ogni giorno all'interno del più grande ente di ricerca italiano. Perché anche in una rivoluzione che ci sembra così rapida e travolgente come quella dell'informatica, la ricerca segue il suo ritmo passo dopo passo, giorno dopo giorno, portata avanti da migliaia di scienziati sommando le piccole e grandi scoperte di ognuno di loro. Bit by Bit. L'argomento di questa puntata quindi è di attualità e a guidarci lungo questa strada in tutta sicurezza sarà Ilaria Matteucci, ricercatrice dell'unità di ricerca Trust Security and Privacy dell'Istituto di Informatica e Telematica. In italiano usiamo un termine unico per indicare la sicurezza sia per gli aspetti che riguardano il mondo digitale sia per quelli che riguardano la sicurezza personale. In inglese invece abbiamo due termini diversi, il termine safety che indica più la salvaguardia della persona. Quindi se la pensiamo ad esempio nelle nostre auto con il termine safety indichiamo tutto quello che è la protezione personale dei passeggeri, ad esempio l'airbag o le cinture di sicurezza o la frenata assistita. Invece con il termine security in inglese ci si riferisce proprio a quello che ormai in italiano invece è chiamata cyber security, quindi la sicurezza in ambito informatico e digitale. Le nostre auto dal momento che possono collegarsi a internet sono anche loro soggette ad attacchi di tipo informatico. Viola oggi parliamo di sicurezza quindi, o meglio come abbiamo appena imparato parliamo di security, perché il tema è questo, mentre la tecnologia evolve con il compito di migliorare la nostra vita, rendere più semplici le nostre attività quotidiane, dall'altra parte crescono anche i rischi e una parte consistente della ricerca informatica si occupa proprio di cyber security, cioè di metterci al sicuro nei nostri ambienti connessi a internet come per esempio in auto. Esatto Chiara, l'abbiamo visto nella storia con cui abbiamo aperto questa puntata. Le centraline elettriche intelligenti delle automobili somigliano sempre di più a dei computer e questo le rende vulnerabili agli attacchi degli hacker. Una centralina infatti ha un sistema operativo, un programma da eseguire e trasmette le informazioni all'interno dell'automobile tra le varie parti. Se l'auto è recente poi ci sono anche sensori e sistemi che compiono operazioni indipendenti dal nostro controllo come la frenata automatica, il limitatore di velocità e così via. Però nelle auto di nuova generazione, oltre a essere collegate tra loro, alcune componenti sono collegate anche alla rete internet. Per esempio il cosiddetto sistema di infotainment, cioè quel sistema che connette il nostro cellulare all'auto e trasforma lo schermo della plancia in un vero e proprio tablet. Qui dal punto di vista della sicurezza informatica si nasconde una vulnerabilità perché si crea un punto di accesso al sistema dall'esterno. A cercare una soluzione a questi problemi non sono solo le case automobilistiche, ma anche i ricercatori come Ilaria. Mi occupo della cyber security nel dominio delle auto da circa sei anni. Questo è un dominio di ricerca abbastanza nuovo perché il primo attacco risale al 2015 e di solito non pensiamo alle problematiche. Invece purtroppo da quando le nostre auto sono connesse a internet dobbiamo cominciare a pensare anche a problematiche relative alla cyber security nelle nostre auto. Per questo la nostra attività di ricerca si svolge su due linee parallele. Da una parte una linea più offensiva dove cerchiamo di capire quali sono le vulnerabilità delle nostre auto e ci travestiamo da hacker per capire quanto possono essere grandi queste vulnerabilità e queste problematiche. Dall'altra invece una linea più difensiva in cui elaboriamo delle soluzioni di sicurezza per rendere le nostre auto più sicure dal punto di vista appunto digitale. Ilaria e il suo gruppo di ricerca da qualche anno vestono i panni degli hacker e provano a violare i sistemi delle automobili per trovare dei punti deboli. Per esempio tra le varie cose che hanno fatto sono riusciti a geolocalizzare un'auto lungo tutto il suo percorso, hanno scattato delle foto della strada usando le telecamere che assistono il guidatore nel parcheggio, hanno attivato il microfono all'interno dell'auto per ascoltare le conversazioni e hanno fatto impazzire le spie e anche l'indicatore di velocità. Se vi state chiedendo come hanno fatto, la risposta è semplice. Potremmo dire che è tutta colpa del CANBAS, il protocollo che mette in comunicazione le varie componenti dell'auto tra loro e verso l'esterno. È lì che si nasconde la falla, come ci spiega Ilaria? Nel 1982 è stato introdotto il protocollo CAN che metteva in comunicazione fra loro le varie centraline dell'auto così da poter regolare tutti gli aspetti più meccanici dell'auto, quindi il motore, il servosterzo, i freni. Il protocollo CAN è un protocollo molto molto semplice, però completamente privo di qualsiasi meccanismo di sicurezza a bordo. Quindi questo ha portato che nel momento in cui le nostre auto sono state dotate sempre più di elettronica fino a essere anche connesse a internet, la nostra auto si è trovata priva di qualsiasi meccanismo di sicurezza a bordo, proprio perché l'auto non è stata progettata per essere secure by design, quindi sicura dalla sua nascita, dal suo disegno e purtroppo mettere però la sicurezza a bordo successivamente ha un costo molto elevato. Maggiore è la tecnologia all'interno di un'auto e più alti sono i rischi in termini di cybersicurezza. Il primo nome che ci viene in mente quando pensiamo a un'auto super tecnologica è sicuramente quello di Tesla, ma Tesla è un'azienda automobilistica un po' sui generis, perché sappiamo che Elon Musk, il suo proprietario, viene dal mondo dell'informatica e non da quello della meccanica. E infatti già nel 2015, durante il più importante ritrovo per hacker che si tiene ogni anno a Las Vegas, l'azienda ha deciso di mettere in palio 10.000 dollari per chiunque riuscisse ad hackerare i sistemi della Model S, il suo modello di punta. Per la cronaca nessuno in quell'occasione è riuscito nell'impresa fino in fondo, però sono state comunque trovate un buon numero di piccole vulnerabilità che poi sono state corrette. Ma questo tipo di collaborazioni non è molto frequente nel panorama dell'industria automobilistica. Ilaria ci ha raccontato che in generale è raro che chi produce automobili incoraggi smanettoni o ricercatori a hackerare i propri prodotti. Ma lei e il suo gruppo di ricerca sono comunque riusciti a ottenere un risultato importante in questo senso. Nel 2019 di laboratorio abbiamo acquistato un'auto, una Kia Seed, e abbiamo cominciato così a fare i nostri test. Quindi abbiamo testato le vulnerabilità di quest'auto per cercare di capire quali erano le problematiche di sicurezza e alla fine siamo riusciti a trovare una vulnerabilità. E non essendo criminali informatici il nostro primo passo è stato quello di fare quello che è chiamato Responsible Disclosure, quindi di contattare la casa automobilistica per rivelare la nostra scoperta. E dopo varie meeting, telefonate e contatti, Kia ci ha fornito un nuovo sistema di infotainment su cui testare se la vulnerabilità era stata, come si dice in gergo, pacciata, quindi risolta. E quindi è stato un lavoro congiunto dove noi dalla nostra parte abbiamo verificato che il problema fosse risolto e loro, da parte loro, hanno scoperto una vulnerabilità e hanno reso le loro auto più sicure. Abbiamo parlato di automobili, ma c'è anche un altro luogo privato, familiare, in cui gli attacchi informatici possono colpirci, anzi diciamo che è il più privato e più familiare di tutti, cioè la nostra casa. Anche qui, riprendendo la definizione che ci ha dato Ilaria Matteucci all'inizio della puntata, siamo molto più abituati a pensare alla nostra safety più che alla nostra security. Ancora ci preoccupiamo molto della possibilità di effrazioni, di furti e non tendiamo a considerare le minacce cyber. Eppure con le nostre case connesse, piene di dispositivi per la domotica, di telecamere, di assistenti vocali, le cose stanno cambiando rapidamente. E allora raccontiamo una storia recente per capire di cosa stiamo parlando. La protagonista di questa storia è una delle aziende di sicurezza più famose in Europa, è la svedese VerySure. Questa azienda è stata messa sotto inchiesta per un fatto piuttosto sgradevole. Cosa era successo? Alcuni dipendenti avevano dichiarato che in una chatta aziendale, quindi di questa azienda VerySure, dei colleghi avevano iniziato a scambiarsi delle foto di clienti, diciamo molto poco vestiti, ovviamente ignari di tutto. Queste foto erano state scattate dalle telecamere di sicurezza all'interno delle case sorvegliate da VerySure. Gli scatti avvenivano quando gli allarmi entravano in funzione per sbaglio, spesso durante la notte. Il problema qui è che queste immagini venivano conservate nel cloud dell'azienda a cui avevano accesso alcuni dipendenti che poi avevano iniziato a diffonderle senza autorizzazione. Ma questa è l'ultima di una serie di storie, diciamo sgradevoli, che hanno a che vedere con i rischi legati alla cybersicurezza nelle nostre case. La maggior parte di questi episodi, per fortuna, fino a oggi è accaduta solo all'interno di laboratori di ricerca. Nel 2018 alcuni ricercatori dell'Università di Berkeley hanno individuato delle vulnerabilità in tutti i principali assistenti vocali Google, Amazon, Apple. Queste vulnerabilità potevano permettere a un hacker di inserire dei comandi in questi dispositivi e poi a usarli per aprire porte, rubare denaro, effettuare acquisti online. In altri casi invece dei ricercatori sono riusciti ad hackerare un termostato che era connesso alla rete e hanno fatto impazzire la temperatura di una stanza. Oppure hanno spaventato a morte dei genitori azionando a distanza gli speaker dei baby monitor che si trovavano nelle stanze dei loro bambini. Di sicurezza informatica nelle nostre case si occupa Andrea Saracino, anche lui come l'area ricercatore nel gruppo Trust Security and Privacy dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR. Mi occupo di cyber security in ambienti mobili e distribuiti e di intelligenza artificiale, in particolare di come l'intelligenza artificiale e la cyber security possono beneficiare l'una dell'altra. Sono il coordinatore del progetto europeo Horizon 2020 Sifis Home, che è un progetto che punta a proporre un'architettura software distribuita e integrata per la gestione sicura e affidabile delle smart home di nuova generazione. La domanda di soluzioni per la casa intelligente è in grandissima crescita. Secondo il Politecnico di Milano, solo nel 2021 la vendita di oggetti connessi per le nostre case è cresciuta addirittura del 21%. Si va dalle lampadine controllabili dal cellulare o con i comandi vocali, alle tv connesse alla rete per permetterci per esempio di vedere film streaming e giocare. E poi ancora ci sono gli elettrodomestici che si comandano da distanza o le porte dotate di smart lock, la serratura intelligente che si apre e si chiude in automatico. Pensa Chiara che Amazon ha dichiarato che nel 2021 in Italia ci sono state ben 5 miliardi di interazioni tra gli utenti e Alexa, l'assistente vocale che ormai si trova in moltissime case. Viola, più o meno tutti, dai più smanettoni ai più tecno scettici, alla fine in casa hanno almeno un oggetto di questo tipo. Dobbiamo imparare a farne un uso consapevole però perché, come ci spiega Andrea, la smart home è un ambiente dove la sicurezza informatica può avere un impatto diretto sulla sicurezza fisica. All'interno della smart home ci sono due problematiche di sicurezza fondamentali, la availability, ossia la disponibilità e la privacy. La availability è la disponibilità di una risorsa o un servizio a svolgere un compito quando richiesto e la loro capacità di inviare messaggi e notifiche quando necessario. Quando si ha un problema di availability un dispositivo potrebbe non rispondere ai comandi, non rilevare un allarme o, peggio, essere controllato da qualche malintenzionato da remoto. Non è difficile capire perché questo è un problema all'interno della smart home. Se un malintenzionato che è in grado di accendere il forno a massima potenza alle tre di notte riesce a fare un attacco potrebbe tranquillamente mandare a fuoco la casa. Per risolvere almeno in parte questi problemi, i ricercatori come Andrea stanno sperimentando nuove soluzioni. Una di queste prevede di rivedere l'architettura dei sistemi che controllano i dispositivi delle smart home, cioè il modo in cui si coordinano tra loro per compiere operazioni. Proviamo a spiegare come funziona. Nelle case che hanno un sistema di domotica complesso, di quelli con molti apparati collegati tra loro in rete, lo schema di coordinamento tra questi dispositivi di solito è di tipo centralizzato. Quindi c'è un dispositivo, il cosiddetto master, che è l'unità centrale e controlla tutti gli altri dispositivi periferici, che poi sono quelli che si occupano di accendere le luci, aprire cancelli e tapparelle elettriche, azionare condizionatori elettrodomestici. Il rischio di questo tipo di architettura è che se il dispositivo master, quindi questa unità centrale, è vittima di un guasto o di un attacco informatico, poi sarà tutto il sistema a risentirne e a smettere di funzionare. Per questo i ricercatori si stanno orientando verso una nuova idea di casa intelligente, che preveda dei sistemi cosiddetti decentralizzati. Un sistema decentralizzato è più affidabile rispetto a un sistema centralizzato. Nel caso di un unico dispositivo gestore della smart home, è sufficiente che quel dispositivo sia sotto attacco o non sia funzionante per bloccare l'intero sistema. Dall'altra parte, un sistema distribuito, ben progettato, distribuisce e replica le funzionalità su più dispositivi, per cui il malfunzionamento di un singolo dispositivo non compromette la funzionalità dell'intero sistema. C'è poi l'altro problema che ci spiegava prima Andrea e non è meno importante, anzi, c'è il problema della privacy. Ricordiamoci che la casa è il nostro ambiente più privato dove siamo più vulnerabili e le informazioni che i dispositivi smart raccolgono sono estremamente preziose per i fornitori di servizi. Ad esempio i nostri gusti musicali, la lista della spesa, i nostri acquisti, ma anche immagini, video e suoni che irrimediabilmente vengono raccolti da microfoni e telecamere webcam che sono lì per offrirci un servizio. Gli assistenti come Google Home o Alexa, per poter funzionare ed essere sempre pronti a scattare al nostro comando, sono di fatto sempre accesi, sempre in ascolto, anche se in realtà si attivano solo quando vengono chiamati. Ad Alexa addettiamo la nostra lista della spesa, chiediamo di mettere una canzone che ci piace, di fare una ricerca su internet per noi e tutto quello che comandiamo a questi dispositivi diventa un'informazione preziosa che racconta qualcosa dei nostri gusti ma anche delle nostre abitudini quotidiane. Insomma potremmo paragonare gli assistenti vocali ai maggiordomi dei romanzi inglesi, quei personaggi discreti e silenziosi ma custodi di molti segreti. Eh sì, ma i nostri segreti poi non restano conservati in quella scatola lampeggiante sulla nostra libreria perché i dati raccolti dagli assistenti vocali sono immagazzinati in server che si trovano a migliaia di chilometri da casa nostra e che appartengono a delle società private che sono molto interessate a raccogliere informazioni sui nostri comportamenti, sulle nostre necessità, questo ovviamente per offrirci dei servizi sempre più avanzati che però non sono gratis. E non è solo una questione di evitare di essere bombardati da consigli per gli acquisti. I dati personali oltretutto ci espongono a una potenziale minaccia fisica perché pensiamo per esempio al fatto che quando chiediamo a un assistente vocale di accendere le luci a casa stiamo anche dicendo che in quel momento ci troviamo lì e se qualcuno avesse accesso alla traccia dei comandi vocali potrebbe capire in quali ore di solito siamo ma soprattutto in quali non siamo in casa e quindi utilizzare queste informazioni per esempio per programmare un furto. Quindi le nostre auto connesse a internet ci assistono nella guida e ci danno servizi utili e divertenti. Le nostre case intelligenti ci facilitano la vita e in un domani sempre più vicino basterà attivare qualche comando dal nostro smartphone per rientrare a casa e trovarla illuminata riscaldata con la cena quasi pronta nel forno anche se non c'è nessuno. Ma c'è un lato scuro nel lato scuro di questo brillante futuro connesso li abbiamo nominati più volte in questa puntata ci sono gli hacker queste entità misteriose che vogliono danneggiarci e che trovano un punto vulnerabile delle nostre vite proprio nel nostro affidarci alla tecnologia. Ma ma chi sono questi hacker e perché sono interessati ad attaccarci? Per quanto riguarda la cyber security della smart home il tema non è ancora l'attacco personale ossia violare in maniera specifica una casa per rubare o creare dei danni fisici. L'attacco va invece considerato verso un gruppo di utenti più grande spesso con un obiettivo secondario rispetto a quello di portare il danno direttamente al singolo nella smart home. Ad esempio possiamo pensare agli attacchi che vengono fatti a noi come consumatori che abbiamo degli oggetti sempre sempre più connessi forniti spesso da case produttrici con brand molto famosi e molto diffusi. Alcune di queste compagnie potrebbero essere in competizione l'una con l'altra e in tal caso potrebbero assoldare un attaccante per sviluppare tecniche per boicottare i dispositivi dei concorrenti. Banalmente se un dispositivo non mi funziona e so che è di un determinato brand riporterò questi dispositivi come difettosi e non vorrò comprare nuovi dispositivi di questo brand. Dall'altra parte possiamo anche essere target direttamente come in qualità di cittadini. Stiamo vedendo la tematica del cyber warfare in cui all'attacco informatico viene aggiunta anche una motivazione politica e quindi potremmo essere attaccati allo scopo di avere le nostre infrastrutture, la nostra smart home danneggiata da attaccanti esterni che lo fanno perché stanno tentando di attaccare la nostra nazione in quanto opposta alla loro. Alla fine anche il lavoro di ricercatori come Andrea Saracino e Ilaria Matteucci può essere definito un hacking ma come ci ha spiegato Ilaria si tratta di un hacking etico, buono, che vuole dare un servizio alla società permettendoci di essere anche più consapevoli dei rischi e soprattutto lavorando per disegnare dei sistemi tecnologici sempre più sicuri. Il nostro lavoro o comunque parte della nostra attività di ricerca è un'attività da hacker, da hacker buono, da hacker etico, quello che era nell'accezione iniziale di questo termine colui che forniva comunque un servizio alla comunità per il bene comune. Purtroppo ormai però il termine hacker è sempre più considerato in accezione negativa, anche perché i recenti avvenimenti come la guerra ibrida anche tra Russia e Ucrania, che è l'ultimo esempio lampante per tutti, portano ancora di più a avere questa accezione negativa data a questo termine. In realtà è un peccato che sia così e tutto è dovuto non dall'attività svolta ma da come questa attività viene utilizzata. Ad esempio pensiamo al primo attacco sulle auto dove Miller e Valasek hanno mandato in un fosso il giornalista sfruttando una vulnerabilità all'interno del jeep Cherokee. Pensiamo che una vulnerabilità simile possa essere su un carro armato o su un drone. È chiaro che se viene sfruttata per scopi di ricerca e per metterla in evidenza per migliorare il drone o la tecnologia a bordo di un carro armato è un conto. Se viene invece sfruttato dal nemico per scopi malevoli diventa automaticamente una cosa molto molto pericolosa e negativa. Bit by Bit è un podcast dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa scritto da Viola Bacchini e Chiara Spinelli. Supporto alla registrazione di Andrea De Vita montaggio di Viola Bacchini. Prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Grazie a tutti. Grazie a tutti.